Presto, guardate, prendete carta a penna e annotate. Alla presenza di un generale e dei rappresentanti del comitato, le prime parole sono... Se non state zitto, non capiremo nulla. Ah, sì, giusto signore, facciamo un po' di silenzio. Da bravo, pallino. Di qualcosa. Come? Culo. Devo spiegare. No, no, la storia può attendere. Forse avrà voluto dire cubo, ah, oppure muro. No, culo. Certo che ha voluto, pallino. Signori, non meravigliatevi, ricordate che pallino era un randaggio. Che linguaggio ci aspettiamo da uno che fino a un mese fa frequentava circoli proletari? Questo pallino prova a dire zina. No, 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 meglio compagno. Il Pokémon è socialista. Signori, signori, per cortesia procediamo con un metodo. Andremo in ordine alfabetico. Da bravo, pallino. Cominciamo dalla lettera A. Aaaaaa. 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 Culo. Ha proprio buon gusto. Forse è il caso di sospendere l'esperimento. No, no, proviamo quella B. Pallino, una bella parola con la B. O con la P, la Q, la fr. Signori, grillati, per cortesia rigoroso. Ordine alfabetico. Pallino, una bella parola dicevo. No, 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 no. Pallino! Pallino! O! A, B, C, D, U, che parli! Ma che parlo? Io so parlare! Io so parlare, so parlare, finalmente potrò dire tutto quello che mi pare, so parlare, so parlare. Può parlare, può parlare, qualche canale eccezionale, un fenomeno normale, tutto un tetto naturale, stiamo zitti ad ascoltare, può parlare, può parlare. So parlare, so parlare, ma che cose c'è il giurale, posso dire alla gente quel che penso verrà, posso dire ai forti di me, che non si è assolutamente. Posso dire ai forti, che sono tutti decreti, posso dire ai grandieri, che sono grandi libustieri, posso dire ai forti stiotti, che sono tutti decreti. La rivoluzione La rivoluzione La rivoluzione Può parlare, può parlare, c'è un canale originale, ma non può cerco sapere quanto meglio sia che c'è il giurale, a saper si controllare, so parlare, so parlare, so parlare, finalmente potrò dire tutto quello che mi pare. Più parlare e, sorrisione